Eccoci qua, siamo pronti a partire con la settimana della protezione civile. In questi 7 giorni parleremo di prevenzione, di attività da porre in essere per migliorare la capacità di resilienza dei nostri territori e della nostra popolazione. L'idea della settimana della protezione civile nasce dai frequenti incontri che noi tutti abbiamo sul territorio e dalla esigenza di formazione e informazione della popolazione. Quindi nel corso della settimana noi ci informeremo e ci formeremo su quella che è la previsione, la prevenzione, la gestione delle emergenze e il superamento delle emergenze. La settimana della protezione civile vedrà una serie di appuntamenti molto importanti. Partiremo dalla campagna informativa in un rischio in oltre 850 piazze del nostro Paese. Avremo un giorno dedicato alla scuola, è fondamentale, anzi voglio ricordare qui come sia stata importante la reintroduzione dell'educazione civica nelle scuole e nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, la formazione di base in materia di protezione civile. Avremo un giorno dedicato alla scienza e alla cultura della protezione civile, un giorno dedicato all'incontro delle autorità di protezione civile dove si discuteranno quelli che sono gli obiettivi cui il sistema deve tendere. Avremo un giorno dedicato alla resilienza nelle infrastrutture strategiche del nostro Paese e nell'ambito delle attività produttive in accordo con Confindustria e finiremo la nostra settimana con una grande esercitazione nazionale nell'area dei campi di Fergrei dove proveremo, testeremo il piano di protezione civile per l'evacuazione della popolazione. Dal 13 al 20 ottobre terremo questa serie di appuntamenti, quindi vi invito a vedere quali sono gli appuntamenti più vicini a voi per partecipare anche voi alla settimana della protezione civile. Buona settimana della protezione civile a tutti!